La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Yancordile Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Rimaniamo sempre nell'ambito della consulenza, andiamo a premiare lo studio professionale dell'anno Consulenza Fiscale. Il premio va, e lo chiamiamo naturalmente sul palco, a Studio Gulli. Per essere un'eccellenza nel settore delle consulenze fiscali, da numerosi anni, garantendo l'offerta di servizi di alto livello per la professionalità e l'ampia preparazione. Ed eccoli che arrivano in team. Il bel gruppo, eh sì. Esatto. Buonasera, benvenuti, complimenti allo studio Gulli, studio professionale dell'anno Consulenza Fiscale. Forse un passo più avanti, esatto. Bravi, bravi, applaudiamo che diventa ancora più importante questa serata. Siamo in compagnia della dottoressa Tina Gulli, fondatrice dello studio Gulli. Benvenuta. Buonasera. Questa sera avete ottenuto l'ennesimo riconoscimento per l'eccellenza nella vostra attività. Ecco, le chiedo un commento a questa vittoria. Questo mi dà molto, mi onora di essere di nuovo qui per questo riconoscimento. Mi sembra una cosa che mi riempie di orgoglio perché devo ringraziare l'organizzazione, il comitato scientifico che mi hanno scelto, mi hanno dato di nuovo fiducia per questo premio. Ne sono grata e spero di fare sempre bene in modo da essere per tutti quanti un esempio, una via per poter ottenere certe cose. Penso che se uno fa le cose col cuore, di qualità e si medesima nell'altro in modo che i suoi problemi diventino anche i tuoi, prima o poi i riconoscimenti arrivano proprio per questo. Cioè è un po' il sociale che si fa, un po' di sociale. Quindi penso sia questo il motivo di queste premiazioni. Non perché sono più brava di un altro, ma è proprio per il sociale che faccio nel mio campo, l'aiuto che do al contribuente a trovare una via d'uscita nelle sue diverse problematiche. Ecco, voi siete specializzati appunto in consulenza fiscale, quindi parlando un po' di riforma fiscale, le chiedo quale sarà secondo lei l'impatto sulle professioni e anche le principali novità per i contribuenti e anche per i consulenti. La riforma fiscale che adesso è stata emanata a marzo, la riforma che un po' riforma il tutto del fisco, cerca di portare al contribuente un aiuto, nel senso che non ci saranno più tutte quelle progressività nelle aliquote che avvantaggiavano alcuni e svantaggiavano altri. Adesso si pensa di fare un'aliquota media del 30%, per cui tutti quanti pagheranno in base al loro potere contributivo, senza che la persona che, non so, guadagna meno a volte si trova a pagare di più. Però ci sono delle cose da sistemare, tipo che le piccole imprese si trovano sempre a disagio con queste nuove leggi, perché c'è troppa birocrazia, non si riesce a fare in modo che le leggi siano lineari e che siano comprensivi per tutti. C'è un continuo vespaio di leggi, una contro l'altra, per cui c'è sempre la possibilità di errore. E si cercherà di fare in modo, adesso si spera con questa riforma fiscale, che siano più comprensibili e che siano un po' alla portata di tutti. Cioè si spendono 238 ore ogni persona all'anno per gli adempimenti, che poi uno è contro l'altro. Insomma c'è sempre la possibilità di sbagliare, bisogna assolutamente rimettere mano a una riforma fiscale che sia più comprensibile e alla portata di tutti. Ecco, infine le chiedo quali sono gli obiettivi che vi siete posti per questa seconda parte dell'anno. Allora, continuare sempre sulla parte estera, perché noi ci siamo specializzati molto sull'estero, nel dare aiuto alle imprese sia italiane che vogliono andare all'estero, sia quelle estere che vogliono venire in Italia, perché il Made in Italy è molto amato nel mondo, quindi è molto apprezzato e noi siamo come un aiuto a poter incominciare una nuova attività sia qui che all'estero. Per esempio anche nelle comunità italo-americane, negli Emirati Arabi abbiamo aperto un ufficio dove aiutiamo la comunità italiana, la comunità emigratina e adesso intendiamo anche aprire altre filiali, una potrebbe essere a Network, stiamo vedendo adesso per poter aiutare la comunità sia italiana che altri tipi di immigrati a potersi stabilire in un mercato che ha 350 milioni come popolazione, quindi un mercato apertissimo all'Italia e quindi ci sono parecchie possibilità.